Ciao, sono Alessandro Candiani, CEO e cofondatore di DNAFone e oggi siamo qui per parlare di controllo qualità, quindi analisi chimiche in birrificio, con Giovanni Campari che ha una grande esperienza, più di 14 anni di esperienza nella produzione di birra artigianale, insieme a Stefano del birrificio Argo che ci ospita. Quindi parlando di controllo qualità io chiedo subito a Giovanni qual è la tua concezione, la tua idea di controllo qualità per un birrificio, anche un piccolo birrificio, un birrificio comunque artigianale che sta crescendo. Immagina di avere una birra che sia sempre sotto controllo, i cui parametri standard che tu ti sei dato vengano sempre mantenuti. Immagina anche che i tuoi clienti non abbiano mai di che lamentarsi, che il prodotto sia costante e stabile batch su batch nel tempo e che le operazioni che tu fai in birrificio vengano di via ottimizzate, quindi i costi di produzione si riducano. Pensa anche a un prodotto che rispetti sempre gli standard previsti dalla normativa. Bene, tutto questo è l'obiettivo del controllo qualità. Quindi il controllo qualità diciamo che accompagna il piccolo birrificio durante la crescita del proprio business, della propria azienda, porta dei vantaggi fin da subito. Io credo che sia un requisito fondamentale di ogni azienda, soprattutto un'azienda che produce food and beverage, quindi birra. Purtroppo ancora oggi ci sono molte realtà nel mondo della birra artigianale che intraprendono questa attività senza avere una solida base di controllo qualità. Spesso si pensa che il controllo qualità sia un optional, qualcosa da fare dopo. In realtà è un prerequisito fondamentale per poter garantire un successo e una lunga durata dell'azienda. Non si può prescindere da rigore scientifico, metodo e operazioni procedurate. Cosa ne pensi? Sì Giovanni guarda, il nostro lavoro ci piace, lo facciamo con passione, ci si diverte, ma in realtà è un lavoro duro, dobbiamo avere metodo, bisogna essere rigorosi e bisogna fare i controlli. I controlli vanno fatti su tutto il processo di produzione della birra in modo tale che il nostro prodotto arrivi al cliente sempre stabile e di qualità perché è quello che vuole il cliente. Chiedo a te Giovanni quali sono quindi oggi le soluzioni che i piccoli birrifici utilizzano per fare un buon controllo qualità. Molti birrifici purtroppo non fanno controllo qualità, questa è una cosa grave. Chi fa il controllo qualità ha diverse strade per mettere in piedi un piano di gestione, di controllo e di assicurazione della qualità. La prima strada è quella che consiste nell'affidare tutte le analisi ad un laboratorio esterno. Questa è una strada molto semplice e immediata che presuppone naturalmente dei limiti. Questi limiti a mio avviso sono che i tempi dei risultati delle analisi sono sempre troppo lunghi, quindi hai dei risultati a posteriori, non riesci a intervenire, non riesci a gestire internamente la qualità. Un'altra possibilità consiste nel costruirsi un laboratorio. Questa è una soluzione scelta dai grossi birrifici, i quali però devono per forza assumere a tempo pieno un analista di laboratori che si dedichi completamente all'analisi. Poi c'è una terza possibilità che è quella di cui vogliamo parlare oggi, ovvero affidarsi a Smart Analysis che non è uno strumento, ma è una piattaforma di servizio. C'è uno strumento che è una sorta di spettrofotometro molto semplice da usare, ma la cosa più importante a mio avviso è la semplicità e l'accessibilità. Cioè questo strumento ha una facilità di impiego che è alla portata di tutti, non bisogna essere dei tecnici, non bisogna essere dei chimici. I risultati sono molto puntuali e accurati. C'è il grande vantaggio di poterli archiviare su cloud, quindi sono sempre disponibili in qualsiasi momento, si possono fare grafici, confrontare, accedere con qualsiasi device elettronico e soprattutto ogni analisi è guidata, quindi è molto difficile sbagliare. Per esempio Stefano, che tu utilizzi Smart Analysis, potresti dirci qual è la tua esperienza, qual è stata? La mia esperienza è molto positiva, nel senso che ogni giorno e ad ogni lavorazione l'utilizzo per avere un riscontro immediato del dato su quello che sto facendo, se lo sto facendo bene o se devo, diciamo, aggiustare il tiro e rimediare. Molto utile, semplice e immediato. Questo fa molto il mio rifugio. È stato un po' il motivo per cui lo abbiamo progettato portatile e piccolo compatto per poter essere utilizzato a fianco della produzione, poter realizzare l'analisi chimica anche durante il tuo lavoro quotidiano, perché ci sono alcuni tempi morti naturali di un'analisi chimica, di un'analisi enzimatica e durante questi tempi morti tu puoi lavorare la tua produzione e Smart Analysis continua a lavorare per te.